musica 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 che cazzo mi gosta i due italiani che per esempio oh me lo banni sto coglione devo pur parlarsi del 2002 coglione di merda devi morire sgozzato se mi chino cago vedi che sono tutti italiani dovete morire di cancro no ma no ok oh grazie brusquet per l'euro di film baila 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 pure il box fa cacare dell'alfa rom eeeew è ora a fare il pizzo ahahahahah ahahahahah oh vai attenzione per entrare la voce du du oh ganges hai rotto i coglioni non lo cambio avanti avanti dimmi che gioco vuoi vedere se rispondi gta codo forna e ti taglio le palle so sei volte che te lo scrivo e te lo dico non cambio il gioco perdoni gula la murta di kit e murta il gioco dove si ruba uai il gioco dove si ruba mamma mia veramente il cervello a metà sto scherzando sto scherzando i coglioni miei sto scherzando sei volte lo scrivo l'alba dei morti dementi che cazzo non ha visto questo pepe grazie per il sapro benvenuto grazie mille ma è cecca veramente il cervello come la fiat uno va serve fare il tagliando ogni volta che mi giro sembra sei sacco ogni volta ma 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 è una cosa incredibile poi hanno si ha brutte intenzioni e sono pure maleducati ma fra ma è proprio irrispettoso ma la stream mica la mia mica la tua ma ma veramente niente vaffanculo a tua madre quella troia che ti ha partorito pure vabbè se volevi fare lo sbolone ne ho quattro un'orgia è lei aiuto bellissima le carte oh e spara lì attenta e e vabbè ragazzi però c'è ci avete veramente la mamma puttana come fai a fare una roba del genere ma ma è schifoso ok mi sa che si sono cazzate eh si eh mi sa che ti stanno a girare i coglioni mi chiamata ma c'è ancora marzo cazzo marzo ma l'hai distrutto tangi ma lo sapevo madre si si spalla afghanistan dio porco che cazzo vabbè mi immagino questi stanno tipo Oh tu gozi vaffanocca le strana murte da mamma Tu valla la c'hghaun che paga a me vaffanculo a sordi uuuché sta rompendo i coglioni da due ore Ban Infatti, ragazzi, li dovete bannare tutti, li dovete bannare tutti Solo io devo poter parlare Buongiorno L'ha vinta i rigori L'ha vinta i rigori L'ha vinta i rigori La cosa più meritata della storia Spero muore tutta la famiglia tua Tutti morti Tutti Fare in culo questo gioco di merda Boh Ci vediamo da power Ascoltatemi bene Ciao ciao Se qualcuno mi insulta in chat Lo dovete insultare Se uno si permette di insultare a me ovunque Lo ammazzate O lo bannate Dipende dal potere che avete Come cazzo faccio? Ha sparato una persona che aveva un computer in mano Se questo non è abuso di potere Ditemi che cos'è allora Che ma tu vedi uno con il portale in mano Vai là e li spari Così a capocchia Pendi c'è Che cosa stai facendo? I cazzi miei Stavo fuori e fuori stavo Sì a capocchia